Una regata unica l'ha definita il consigliere regionale Marco Dolphin parlando della Venice Hospitality Challenge, Gran Premio Città di Venezia, presentata ieri mattina alle Zattere. Quest'anno se ne festeggia il decennale ed è l'unica regata che si disputa all'interno di un circuito cittadino. Da quest'anno la manifestazione al patrocinio della Regione Veneto ha ricordato il consigliere, sottolineando che eventi come questo hanno una grande valenza per il Veneto e le città che li ospitano. Per celebrare la decima edizione della regata è stata allestita la mostra Venice Hospitality Challenge, il decennale, una vetrina di questo grande evento sportivo legato alla marineria e all'ospitalità di Venezia. Un evento che, non ultimo, guarda anche il sociale. La manifestazione è infatti al fianco della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Grazie a tutti.